Buon pomeriggio a tutti, sono Andrea Carugati, giocatore del Manifesto, siamo qui per un appuntamento ormai abitudinale per chi siede a questo sito, parliamo del libro di Goffredo Bettini a sinistra da capo, edito da Paper First, ne parliamo con Miguel Gotol che è stato senatore del PD di articolo 1 e oggi assessore alla cultura del Comune di Roma e naturalmente con l'autore che è ancora in corso un suo tour per tutta Italia di presentazione di questo libro che ha scosso la discussione del del congresso del PD e l'ha indubbiamente molto animata. La domanda che faccio appunto Bettini è questa, cioè se lui ritiene che l'esito delle regionali, molto negativo per il PD soprattutto nel Lazio, in questo modo rafforzi le tesi che lui scrive in questo libro in cui richiama a una rifondazione del campo del centro-sinistra del PD e gli chiede insomma di ritornare un po' alle origini, a parlare a chi sta sotto, a chi non ce l'ha fa, a chi è più schiacciato non perché è sfortunato ma perché è schiacciato da una degenerazione del capitalismo finanziario sostanzialmente degli ultimi anni, quindi una svolta a sinistra che riporti a parlare con i più deboli e pare che insomma sia l'astensione che anche in qualche modo l'esito confermi che c'è un abbandono del popolo diciamo così che il PD potrebbe rappresentare. Sì, mi pare la domanda assolutamente opportuna e do una risposta affermativa. Nel libro c'è un allarme, cerco di dare anche delle risposte sulla situazione della sinistra italiana, del campo democratico e quindi a me pare che le elezioni confermino pienamente questo allarme. In questa situazione drammatica non c'è dubbio che il PD abbia tenuto, questo dimostra che anche il dibattito congressuale tutto sommato ha aiutato a mettere in campo forze, a far sentire che il partito democratico non solo esiste ma suscita ancora un interesse e una passione. Io addirittura per quanto riguarda il congresso avrei fatto anche una discussione più ampia, più larga, più partecipata ma comunque le cose da questo punto di vista non sono andate male, possiamo essere per certi aspetti soddisfatti. Però questo risultato del PD è dentro una catastrofe generale, ma non solo sugli orientamenti politici che sono emersi ma sulla tenuta della democrazia italiana. Noi abbiamo raggiunto massimi livelli di astensionismo e devo dire che secondo me in questi livelli di astensionismo c'è anche un giudizio negativo degli elettori sulle regioni, proprio la funzione delle regioni in quanto tali, è emerso secondo me anche questo. Ma comunque l'astensionismo è un processo che viene da lontano ma ha raggiunto dei livelli ormai di guardia per la democrazia italiana. In più c'è un'altra questione che a me pare rilevante e che sì il PD ottiene, però noi abbiamo avuto un processo di rivalicazione delle forze democratiche contro la destra italiana che è stata impressionante. Perché io ho usato questo termine diciamo noi abbiamo avuto una vera ruvidezza da parte sia del Movimento 5 Stelle sia del Terzo Polo verso il Partito Democratico, peraltro attaccato fortemente anche dalla destra italiana e a noi c'è mancata ancora una volta una prospettiva politica. Non si può andare, questo è un punto che nella discussione anche passata nel PD, insomma io sono stato preso per uno fissato con le alleanze, adesso dobbiamo pensare al PD, fare il congresso, vedere in questo congresso chi prevale, quale orientamento il PD deve avere, io le ho detto nel mio libro, le mie idee, punto e basta, poi vedremo che cosa succede, però anche dopo ho fatto il congresso dove aver pensato a noi e noi siamo una parte fondamentale della prospettiva democratica del paese e se questa prospettiva democratica del paese non è credibile perché dentro a questo campo ci sono galli che si beccano tra di loro continuamente, perdono tutti, questo è quello che non si riesce a capire, perdono tutti perché naturalmente senza una proposta politica 5 Stelle perderanno, senza una proposta politica il terzo polo perderà, senza una proposta politica il PD resterà con il 20% che diventa inutile e quindi è destinato anch'esso piano piano a decrescere. Quindi questo tema va riproposto con un atto di grande responsabilità, io sono impressionato e chiudo dalla destra, cioè Berlusconi ha detto delle cose sull'Ucraina che se pure dall'opposizione noi l'avessimo detto oppure uno dei partiti diciamo che non è di destra l'avesse detto sarebbe successo un cataclisma. Loro assorbono tranquillamente stando al governo che il leader di uno dei partiti fondamentali del governo dice quelle cose, eppure non succede niente, in Europa ha fatto una figuraccia la Meloni, eppure non succede niente, stanno sempre insieme, cioè sulle vicende della giustizia hanno divaricazioni enormi, però riescono a fare un blocco politico. Non dico che noi dobbiamo fare una cozzaglia, perché non dobbiamo fare una cozzaglia, ma porsi il problema di come dare a ognuno con le proprie proposte, con la propria fisionomia, però una prospettiva credibile al paese, questo è fondamentale. Il PC che era il PC che non poteva mai andare al governo, mai, perché finché c'è stata la quella fredda non si poteva andare al governo, pensare che potesse andare al governo, benissimo, il PC in ogni elezione faceva una proposta di governo, non diceva soltanto votate il PC, diceva votate il partito dentro una prospettiva di governo, e noi siamo nel 18 siamo andati senza una proposta, abbiamo preso un pote, adesso alle regionali siamo andati senza una proposta. Tutto dentro un sacco, in modo investito. Ecco, a Gottoro appunto chiederei di partire da questo ostensionismo che sicuramente è superiore alle aspettative, superiore anche nel centro di Roma al dato incredibile del 2014, quando Emilia Romagna votò il 37%, è lì interpretato come uno sciopero del voto contro Renzi, da parte della base e degli elettori del PD. In questo caso invece non si può parlare di uno sciopero del voto, perché naturalmente non c'è stato, però che cosa ha significato questo ostensionismo che poi c'è anche in Lombardia, quindi non può essere certamente riferito a uno dei due governi in particolare, e che cosa dice questo voto appunto per il centro-sinistra? Sì, l'astensionismo è un'onda lunga che ci accompagna da ormai molti anni e è sempre interessante interpretarlo, nel senso che c'è un ostensionismo consapevole che è frutto di disaffezione o di critica alla proposta politica che viene fatta. C'è poi un ostensionismo fisiologico che magari è dipeso dal fatto che le elezioni regionali non hanno avuto una grande capacità mobilitante e anche una grande pubblicità. Certamente a me sembra il dato più eclatante, perché naturalmente si stabiliscono delle maggioranze, ci consentono di dire con chiarezza e con onestà intellettuale che la destra ha vinto, ma sarebbe veramente sbagliato, come invece vedo che con grande superficialità è stato fatto in queste ore, da quei dati sostenere che la destra sia maggioranza nel paese. Perché la matematica non è un'opinione e se votano il 40% degli aventi diritto è evidente che il 50% o poco più di quel 40% non costituisce una maggioranza politica. Questo dovrebbe essere un campanello di allarme anche per i vincitori. Per quanto riguarda la parte degli sconfitti, io direi che l'astensionismo deriva dal fatto che se non si vede la radice di un'alternativa, una politica credibile, chi ti voterebbe in teoria o sceglie chi governa lo status quo o se ne sta a casa. Io per esempio sento un gran parlare del problema che secondo me non è centrale, del rinnovamento delle classi dirigenti per quanto riguarda il Partito Democratico, non è centrale perché se siamo obiettivi sono circa dieci anni e più che si parla solo e soltanto di questo. Faccio notare che la parola d'ordine con cui Renzi è entrato e poi uscito dal PD è stata non a caso quella di rottamazione. Ma all'insegna del rinnovamento delle classi dirigenti sono nate e poi sono anche finite le tante leadership che si sono succedute. Io vedo nel PD un problema che riguarda la sua identità, che riguarda la sua politica, che significa dire con chiarezza e anche con insistenza cosa vuoi fare e per chi lo vuoi fare, su due, tre, massimo quattro temi su cui si costruisce appunto la proposta politica. Un altro tema che un po' mi preoccupa è lo sciupio delle parole, perché le parole hanno un senso, cioè i congressi nella storia della sinistra italiana, ma in generale nella storia della vita politica di una democrazia, sono una cosa seria, sono una cosa dove ci si riunisce nelle sezioni o nei circoli, si esprimono dei delegati, quei delegati discutono e poi si arriva alla definizione di un vincitore che è collegato a quella piattaforma che ha avuto però un'ampia discussione. Ecco, io ho un po' difficoltà, su questo sì che sono critico, sulle modalità con cui il Partito Democratico chiama congresso cose che in realtà sono qualcosa di diverso, sono la scelta di un leader attraverso un referendum sulla sua persona a partire da due, tre, quattro testi che vengono elaborati e ci mette cinque, sei mesi a farlo. Questo è anche un problema, cioè sarebbe molto più significativo e importante che in quei quattro, cinque mesi il Partito Democratico svolgesse un vero e proprio congresso e qui c'è un paradosso perché poi le tradizioni culturali da cui deriva il Partito Democratico che sono diciamo quella cattolico-democratica, quella comunista italiana, beh insomma sapevano fare i congressi e sapevano che i congressi erano una cosa seria. Bettini ne ha fatti tanti nella sua storia politica. Quindi ci si mette tanto tempo, forse troppo, per poi produrre un risultato che non consente di rispondere alla vera domanda che ripeto non è quella di un generico rinnovamento delle classi dirigenti ma è della politica e della identità politica di questo partito. Chiudo sottolineando in una situazione certamente difficile che è vero che ciò che sembrava per alcuni commentatori inevitabile e cioè una scalata da destra con il duo Calenda-Renzi o dai Cinque Stelle nel nuovo conio di Conte una scalata al PD, ecco questo non è avvenuto cioè i dati sia in Lombardia che nel Lazio da questo punto di vista registrano una tenuta sostanziale del PD che rimane il perno di qualunque proposta che si voglia costruire di alternativa a chi governa. Questo è l'altro tema, politica e costruire un'alternativa a chi governa. Ecco, il libro di Bettini naturalmente non contempla diciamo tra le sue tesi quella che basta un cambio di un rinnovamento delle classi dirigenti anzi diciamo così sviluppa proprio una critica al PD che è diversa, proprio che non parla di facce ma parla invece di come in questi ultimi anni in particolare ci sia stata una subalternità a un modello di sviluppo che in qualche modo ha portato il PD sempre più lontano diciamo così da quelli che erano i cedi che poteva e voleva rappresentare. Ecco io però mi sento di farvi una domanda flash per poi tornare sul libro e sul congresso visto che parliamo con due persone che hanno responsabilità hanno avuto e hanno un ruolo nel Lazio e a Roma voi cosa pensate del risultato elettorale sia per quanto riguarda il giudizio sulla giunta diciamo di centro-sinistra che ha governato il Lazio e sia per quanto riguarda un eventuale campanello di allarme in città a Roma dopo il primo anno della giunta Gualtieri. Di questo ve lo chiedo sapendo che siete persone che fa parte di questa giunta Bettini è stato in qualche modo come si può dire padre nobile insomma della candidatura di Zingaretti nel Lazio nel 2013 secondo voi c'è un elemento anche in cui forse è stato raccontata questa giunta in maniera più positiva di quanto i cittadini abbiano percepito e questo invece per Roma invece vale se la domanda è se c'è un malessere rispetto a un investimento che è stato fatto dagli elettori di Roma che forse non ha ancora avuto le risposte adeguate partirei da Gautor ma io francamente non ho la sensazione che la giunta di cui faccio parte guidata da Roberto Gualtieri sia raccontata in modo positivo non è così, è sufficiente sfogliare i giornali ma non è questo il problema volevo soltanto fare questa considerazione non è mai avvenuto almeno in questo primo anno di avere questa sensazione noi stiamo lavorando stiamo lavorando credo con serietà stiamo affrontando una serie di problemi e di questioni guardate anche amministrative che venivano da troppi anni da oltre da oltre una quindicina è un passo il nostro che è tarato sui cinque anni governare una città complessa come Roma richiede diciamo la preparazione del maratoneta che deve partire con gradualità saper dispensare le proprie energie per evitare delle crisi che lo costringono al ritiro è chiaro che a me preoccupa il dato dell'astensionismo romano che è particolarmente rilevante perché ripeto a noi interessa in particolare a noi che siamo impegnati nella cosa pubblica riportare i cittadini al voto e siamo consapevoli che lo possiamo fare solo e soltanto se siamo in grado di elaborare non solo diciamo delle politiche che creano soddisfazione questo è ovvio ma anche anche delle politiche che possano essere riconosciute e riconoscibili che abbiano diciamo un valore identitario questo è molto importante la mobilitazione del proprio elettorato che riduca l'astensionismo piuttosto che pensare attraverso alchimie di andare a prendere i voti degli altri è importante ogni volta rimotivare un elettorato un elettorato che guarda a te con interesse ma tu devi convincerlo dico soltanto due cose che secondo me sono i problemi principali del nostro tempo un tema è quello del lavoro che significa dire della della lacerazione della frammentazione del lavoro significa quindi parlare oggi a chi ha vent'anni e non solo e che si affaccia in un mercato che è sempre più è sempre più precario ed è sempre più incapace di di soddisfare quelle minime richieste di diritti allora su questo il partito democratico sulla 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 lotta le disuguaglianze nell'accesso al lavoro i garantiti i figli di papà quelli che hanno già la possibilità di ereditare delle professioni o delle posizioni è il vastissimo mondo invece di chi di chi non trova la pappa pronta e quindi deve combattere si trova a combattere in delle situazioni che sono sempre più sempre più difficili una seconda questione ad esempio può riguardare il salario minimo cioè uscire dalle dalla trappola ideologica che è relativa al reddito di cittadinanza sì reddito di cittadinanza no c'è un tema che è legato alla dignità del lavoro che significa dire che non si può lavorare con salari di 3-4 euro l'ora che spesso si trovano nei contratti nei contratti e si stabilisce che al di sotto degli 8 euro al di sotto dei 9 euro non c'è cittadinanza del lavoro in questo paese e su questo il partito democratico che queste elezioni hanno consegnato anche queste elezioni regionali come perno come dicevo di una alternativa a questa destra il partito democratico deve fare delle proposte che siano sue e porsi in maniera competitiva e non ancillare rispetto sia al duo Renzi-Calenda sia ai 5 stelle ma cercando di unire unire un campo che abbia 3-4 proposte chiare su cui si chiede e si richiamano gli elettori al voto chiedo brevemente a Bettini su Roma-Lazio e poi gli voglio chiedere un'altra cosa che riguardava quel terzo polo io sottoscrivo tutte le argomentazioni di Gotor insomma le trovo molto pertinenti sulla vicenda del Lazio vorrei fare un discorso molto diciamo pacato e penso di verità noi non dobbiamo scordarci che Zingaretti ha vinto due volte anche la discussione che adesso c'è si la percentuale ha vinto due volte e questo purtroppo è accaduto solo con Zingaretti insomma che prima di Zingaretti avevamo perso e dopo Zingaretti abbiamo perso quindi io penso che noi dobbiamo molto rispetto al lavoro che ha fatto Zingaretti nel Lazio penso che l'abbia fatto anche un lavoro buono io non sono stato mai uno che ha esaltato ha fatto dichiarazioni di esaltazione perché poi la situazione è molto faragginosa ho apprezzato diciamo i toni anche di Gotor sull'aggiunta dentro la quale lui lavora perché è vero poi poi in particolare Gualtieri c'è uno stile da maratoneta ma è una persona che sta lavorando con molta serietà c'è un governo di Roma prima di lui non c'era un governo della città però non c'è dubbio che nonostante i risultati io insisto su un punto che proprio l'istituzione regione in questa occasione ha preso un colpo e e l'ha preso anche poi dirò qualcosa l'ha preso anche specifica dell'azio l'ha preso anche perché guardate il covid ha creato una situazione nella quale sono emerse anche delle risposte delle istituzioni molto positive tutte le cose che sappiamo soprattutto nel Lazio Alessio Danato ha fatto un lavoro straordinario però ha messo in evidenza anche ancora di più verso i cittadini la fragilità delle strutture pubbliche della sanità ed ecco la gravità anche che la destra vuole tagliare ulteriormente l'ha messa in discussione e la sanità è faticosa è faticosa per le liste d'attesa è faticosa per faticosissima per i pronto soccorsi insomma c'è una situazione nella quale le cose sono più mosse di quanto si possa dire dal punto di vista della propaganda questo ha pesato secondo me anche nel giudizio degli elettori ma infine c'è una questione secondo me che specificatamente sul Lazio è pesato e a Zingaretti è stato chiesto insomma comunque ha dovuto affrontare due ruoli sia quello nell'ultima fase sia di presidente della regione sia del candidato prima la segretaria del partito e poi come segretario del partito questo qua ha pesato perché fare due mestieri in uno inevitabilmente porta quando sei segretario del partito in qualche modo a concentrarti di più sulle questioni politiche insomma essere un segretario di un grande partito italiano poi governavamo il paese inevitabilmente ti concentri molto su questo e diciamo si è sentita un po' nell'ultima fase negli ultimi anni l'assenza del presidente della regione questo fa riflettere anche perché non c'è stata probabilmente una classe dirigente che lo ha potuto diciamo sostituire in modo forse adeguato quindi io ho sentito che nell'ultima fase la regione Lazio ha vissuto una esperienza un po' a coda di pesce ma questo deriva proprio non per la presenza di Zingaretti ma per la sua assenza e quindi su questo bisognerebbe anche avere una generosità di giudizio chiarissimo c'è un tema appunto che vorrei affrontare che mescola le regionali un po' con i contenuti del libro di cui stiamo parlando di Goffreddo Bettino non vi parla di mezza dire dell'anima di un PD che non ha saputo finora scegliere si è molto confrontato sul cambio di segretario ma non ha saputo ancora scegliere tra una prospettiva liberale e una socialista ecco se vogliamo ridurla proprio ai minimi ai minimi termini a questo di questa campagna elettorale per le regionali in Lombardia e non nel Lazio in qualche modo ci fu un momento una sorta di allucinazione collettiva per cui sia esponenti di primo piano del PD sia commentatori e giornali non il manifesto evidentemente e neanche il fatto devo essere sincero proposero al PD di fare un'alleanza con Letizia Moratti interpretandola come una sorta di modo per scardinare un blocco sociale e politico della destra lombarda naturalmente Renzi e Calenda hanno cavalcato questa cosa e il flop che loro registrano in Lombardia è un flop clamoroso non è un risultato allora il PD invece ha scelto Maiorino che è un uomo di sinistra che ha preso più in percentuale più voti di Giorgio Gori il renziano ex uomo della televisione di Berlusconi che invece poteva essere nel 2018 presentato come il turbo riformista che parlava ai ceti produttivi lombardi che prese 20 punti di differenza da Attilio Fontana allora la domanda è questa vicenda di Moratti secondo Bettini e anche secondo Gotor chiude finalmente il tema del centro della rincorsa al centro del fatto che bisogna essere sempre più moderati che bisogna accoppiare la destra per addirittura prenderne i protagonisti per poter essere diciamo credibili secondo voi questa folle allucinazione che c'è stata in questi mesi ancora paradossalmente incredibilmente ancora chiude finalmente questa partita e come dire e col fatto che Meloni vince le elezioni con le sue idee di estrema destra senza moderazione senza infingimenti ci dice che finalmente la sinistra può uscire da questa sbornia in cui deve rinunciare a se stessa per poter essere competitiva partirei in questo caso da Bettino no ma mi pare che la sua domanda coglie proprio un punto decisivo cioè qual è il il grande abbaglio che in parte insomma ha avuto anche il PD in alcune fasi non in tutte perché io sul passato non voglio fare di tutta un fascio di talerba insomma non è giusto ci sono state differenti linee politiche che si sono alternate cioè Erenzi Zingaretti e Zingaretti letta e letta insomma quindi ci vuole anche un po' di coerenza nel ricordare il passato in una parte di questo nostro passato c'è l'idea che assumere noi ma non tanto l'ispirazione liberale magari ma una proprio curvatura di tipo liberista era il modo per avere consensi nei scelti moderati e nell'elettorato di destra e quindi allargare diciamo il consenso attorno al PD questa è l'idea sostitutiva per cui noi dovevamo essere come gli altri per poter levare i voti agli altri è un'idea abbastanza stravagante perché innanzitutto se tu certi temi li vuoi trattare allora sicuramente l'elettorato sceglie l'originale sceglie quelle che più coerentemente si trovano storicamente anche da quella parte e ti prende come un trasformista in secondo luogo il nostro problema non è quello di rosicchiare qualche voto alla destra all'elettorato di destra attuale che come ricordava giustamente gotor la storico di classe è un elettorato minoritario noi in Italia l'elettorato che appoggia l'attuale governo che dovrebbe essere più prudente in questo senso sulle sue esternazioni dovrebbe essere più prudente ha un consenso di italiani reali che è minoritario e che comunque quel consenso è molto solido così come quello che è rimasto alla Lega o quello che è rimasto di fedeltà a Berlusconi il problema non è tanto levare quelli che oggi votano quei partiti il problema è rivolgersi alla maggioranza degli italiani la stragrande maggioranza degli italiani che non votano che sono schifati che sono lontani che non si sentono rappresentati e in questo senso noi dobbiamo recuperare lo diceva anche questo Gotthor sia linea politica e sia chiarezza rispetto a chi noi vogliamo rappresentare perché lì c'è il vulnus cioè lì c'è la frattura sui temi del lavoro sui temi della giustizia sociale sui temi dello stato sociale dei diritti sociali della preoccupazione verso le fasce più deboli ma anche persino della scelta di aiutare o meno invece che i salotti buoni della borghesia italiana su quale certe volte noi ci siamo scappellati di aiutare invece quella piccola media impresa che sta nel territorio che fatica che è legata che è un elemento comunque di coesione sociale che ancora esiste cioè sono scelte di fondo politiche di collocazione che noi dobbiamo avere e non la schermaglia in una diciamo in terreno tutto sommato limitato e ormai consolidato nei suoi orientamenti a me io stamattina è finito il festival di salvi ma posso dire una cosa perché un tempo noi ci occupavamo il scompiatto Gianni Borgno mio carissimo amico certe volte esagerava persino dicendo non leggere altri libri sull'Italia vedi Sanremo e capisci tutto quello che è successo adesso non arrivo questi eccezzi diciamo di Gianni Borgno però una cosa la voglio dire a me è impressionato l'applauso che ha fatto la fa la stampa quando l'ultimo che era uno dei cantanti più accreditati anche per potervi invece è arrivato quarto perché c'è questo che cosa mi ha fatto riflettere mi ha fatto riflettere su un fatto che c'è un fazzoletto di chi rappresenta l'opinione pubblica che o protesta perché magari Sanremo non ha avuto una così una linea di politica corretta ma protesta anche è la protesta però nella protesta si riferisce sempre a quella non corretta ma dentro la logica della contraddizione tra corretto e scorretto cioè si parlano lo stesso linguaggio cioè quelli che trasgrediscono e quelli che invece non vogliono che si trasgredisca sono leggibili parlano lo stesso linguaggio sono nello stesso circuito ultimo è un'altra cosa cioè non è né corretto né scorretto è la rappresentanza un po' diretta non è rozza perché è un trattato straordinario ma più diretta autonoma con un linguaggio che non si mescola con il corretto scorretto ma che rappresenta il popolo tant'è vero che riempie gli stadi e noi dovremmo riflettere su quegli stadi perché è lì che noi dobbiamo pescare non nella diatriba tra diciamo il corretto e scorretto dentro la logica comunque dell'elice questo è un punto decisivo di analisi secondo me l'ho detto per avvalorare diciamo la la tesi di su Sanremo potremmo fare tantissimo potremmo fare un'altra puntata la farei molto molto volentieri invece chiedo a Dottor proprio su questo sul tema Moratti e l'abbaglio di di fingersi la destra la domanda sulla Moratti la candidatura della Moratti era un modo di candidare uno di destra per poter battere la destra il risultato è deprimente perché non sta in natura ma secondo lei Bettini chiude questa partita del PD spero di sì sulla mimesi diciamo sul fatto della mimetica di destra oppure no spero proprio di sì io io spero di sì ma credo di no fin quando ripeto non ci saranno anche nuove regole che consentiranno di fare un congresso profondo vero e autentico veramente anche io ho questo ormai fastidio rispetto all'autoreferenzialità dei dibattiti di un cortile che è sempre più ristretto e che si guarda sempre più la punta delle scarpe e ha difficoltà a essere popolare popolare cioè a intercettare le questioni che riguardano la maggioranza degli italiani eppure materia ci sarebbe questo governo di destra con una lega al proprio interno riverniscia i nomi ma quando parla di autonomia differenziata sta ponendo una grandissima questione dove noi dobbiamo dire rivendicare la necessità di livelli assistenziali minimi a livello nazionale su questioni fondamentali che sono la scuola e che sono la sanità ad esempio e quindi il no a questa autonomia differenziata proposta dalla destra può essere e deve essere uno di quei punti su cui si costruisce una piattaforma con cui poi ci si presenterà in maniera competitiva per un'alternativa e a me scoccia anche francamente dover lasciare un nobile concetto come il concetto di riformista come se gli altri quindi chi sarebbero gli altri dei massimalisti anche poi tra l'altro utilizzare parole fine ottocento inizio novecento per descriverci è qualcosa che che funziona poco qui noi abbiamo anche dentro il pd qualcuno che dice noi possiamo essere una cosa il suo contrario a favore dell'articolo 18 o contro l'articolo 18 a difesa della costituzione o per la sua riforma l'importante è andare a prendere i voti della destra io questo non lo chiamerei riformismo è una posizione che rispetto credo che sia sbagliata credo che gli elettori scelgono sempre l'originale credo che ogni volta che si fanno questi movimenti si perde credibilità e ad esempio è stato simpatico Cuperlo quando ha risposto a Renzi che gli diceva avete scambiato una Ferrari con una Twingo sì ma la Ferrari la Ferrari era in leasing non era una tua non era una tua proposta con cui tu chiedi voti e altri invece credo in maniera più seria devono e si pongono il problema di costruire una identità di sinistra popolare riformista evidentemente che sia ancorata al tema del lavoro uguaglianze disuguaglianze povertà salario minimo lotta all'autonomia differenziata e su questo si può creare si deve creare un campo eh più largo del partito democratico perché guardate che anche le storie delle persone contano ma qualcuno è in grado di proprio sociologicamente individuarmi le differenze che dovrebbero intercorrere sicché è impossibile qualunque forma di dialogo tra un calenda un letta o un conte onestamente proprio la biografia la storia le origini sociali le scuole che hanno frequentato i percorsi che hanno fatto eppure sembrano nemici destinati a non non parlare ma neanche neanche incontrarsi per un caffè beh questa situazione da cui dobbiamo uscire è la situazione ideale perché la destra che non sta meritando possa governare sui nostri limiti sulle nostre difficoltà e sulla nostra incapacità di reazione questo è un po' il punto io vorrei intervenire perché una domanda che mi sta molto a cuore secondo voi questa clamorosa diciamo così sconfitta alle regionali e quindi la necessità in qualche modo di fare un po' un sinistra anno zero che era uno dei titoli che ieri avevo proposto al giornale per aprire oggi il manifesto questa crisi così profonda di rapporto col popolo secondo voi favorirà senza che voi naturalmente dobbiate fare endorsement la novità più netta di Schlein alle primarie o l'usato sicuro di Bonaccini ve lo chiedo anche in maniera abbastanza come dire sintetica perché l'impressione è che appunto questa eh no appunto la domanda è proprio questa e favorirà questa astensione così forte le urne potrebbe favorire invece una partecipazione dentro le primarie PD comincio da Bettini ma secondo me la partecipazione alle primarie visto anche il dato di tenuta comunque del Partito Democratico e questo ripeto dipende anche un po' dal tentativo comunque che abbiamo fatto di una discussione almeno di una rivacità della discussione di un confronto che era iniziato molto sonnolento però poi noi abbiamo cercato insomma anche molti compagni compagni hanno sollecitato un dibattito un po' più eh più vero e questo alla fine un po' eh penso che ci sia stato e questo ha favorito diciamo sicuramente la tenuta del PD avendo questo risultato io mi auguro che diciamo l'IPD quel 20% di votanti non di italiani di votanti che hanno dato ancora fiducia al Partito Democratico possano andare a votare e anche un po' coinvolgendo diciamo tutti quelli che hanno seguito con un certo interesse questa discussione la Costituente comunque qualche pezzo nuovo lo ha messo insieme io penso che possiamo vedere questo passaggio come un passaggio abbastanza partecipato non come quelli precedenti ma abbastanza partecipato comunque significativo significativo per comprendere un po' gli orientamenti chi è avvantaggiato dal voto eh questa è una bella domanda perché se da una parte sicuramente ci potrebbe essere una spinta dire veramente cambiamo non cambiamo locomotiva ma cambiamo binario eh su cui far correre una locomotiva diciamo la posizione della Schlein da questo punto di vista ha un vantaggio perché lei si presenta effettivamente come eh non una sostituzione soltanto ma proprio anche l'inizio il possibile inizio eh di una storia diversa questo non c'è dubbio se invece questa situazione allarmata eh del campo democratico questa eh situazione comunque di di fragilità diciamo eh che rimane anche nella sinistra eh di fronte a questa destra incombente che vince vince in modo netto eh le elezioni potrebbe portare a un voto più di rassicurazione e cioè dire vabbè come ha detto lei un voto sicuro diciamo un usato sicuro e quindi è molto aperto io oggi non sono in grado di dire quale delle due ragionamenti per farla quindi chi ha più vantaggio aggiungo una una piccolissima coda di domanda che poi naturalmente rivolgo anche a Gotor sempre in modo sintetico ma secondo voi se per la prima volta l'esito delle primarie ribaltasse quello degli iscritti questo cosa comporterebbe per il PD questo intanto lo chiedo a Bettini poi le tre domande e conclusive poi le giriamo a Gotor no non che non credo che questo sia il punto saliente noi abbiamo fatto un congresso che si chiama costituente quindi un congresso molto che tende ad aprire che tende a coinvolgere soprattutto nei gazebo io mi auguro i cittadini anche non proprio nella ricerca nella cerchia stretta dei militanti o degli iscritti quindi sarebbe accettato come un esito l'esito che conta che conta veramente perché poi il segretario si sceglie così quindi non credo che questo incida invece la preoccupazione è un'altra dobbiamo stare molto attenti in questa situazione dividere il PD e questo sarebbe un po' un fatto gravissimo ma anche per la democrazia italiana quindi questo non significa fare dopo un governo del partito confuso assembleare o segnato costantemente dal compromesso significa però che chi perde deve accettare diciamo l'esito del voto e prepararsi magari in una battaglia politica in positivo per cercare di vincere la prossima volta però stando insieme perché poi il partito democratico si chiama democratico almeno questo se lo dovrebbe auto diciamo si dovrebbe autodisciplinare su questo che chi perde in se ingrugna come dico sempre io ecco questo è molto importante non solo per noi ma la sensazione per la democrazia italiana perché se c'è un'ulteriore frammentazione non la vedo brutta insomma anche io ho difficoltà a fare delle previsioni certo sarà importante il numero dei votanti se saranno diciamo a primaria aperte oltre un milione o sotto questa cifra e naturalmente non drammatizzerei se ci fosse un risultato che rovescia l'indicazione dei circoli del partito democratico non lo drammatizzerei perché queste sono le regole che prevedono una partecipazione popolare anche dei non iscritti anche nella scelta del segretario del partito democratico poi possiamo discutere se questo sia condivisibile o no io su questo ho delle idee chiare che non che non mi trovano concorde con questa modalità di scelta del del segretario del partito democratico che pure naturalmente guardo con grande con grande rispetto cioè io credo che le primarie aperte anche in un iscritti siano giustificate auspicabili per scegliere eh chi guida delle coalizioni che si candidano in sedi istituzionali candidati al comune candidati alla regione candidati alla premiership del paese sulla scelta del segretario del partito auspicherei delle modalità diverse però questa è un'opinione che vale quello che vale pressoché pressoché nulla e quindi non so dire non so dire perché quello conterà molto per il risultato e prevedere se ci sarà un'ampia partecipazione o no sarebbe molto interessante se fosse ampia perché sarebbe in controtendenza con invece l'astenzionismo di queste ore che ha colpito in modo particolare il voto il voto diciamo che di quel bacino che possiamo definire di centro-sinistra e quindi sarebbe importante che ci fosse una festa democratica con un'ampia partecipazione mi aspetto anch'io da chi vinca chiunque esso sia due cose ripeto non tanto l'insistenza sul tema del rinnovamento della classe dirigente che poi in realtà spesso avviene attraverso degli episodi di trasformismo che sono anche divertenti no no che ci sia la definizione e l'impegno di una identità politica del partito democratico cioè cosa è e per chi è il partito democratico oggi e nei prossimi anni seconda questione ma su questo sono diciamo ottimista che non ci siano ulteriori divisioni c'è una fisiologia democratica ci saranno maggioranze e opposizioni ma sarà opportuno che tutti lavorino per remare nella stessa direzione perché il partito democratico si sta muovendo su un crinale che è molto molto critico e molto critico e serve quindi che poi ci sia compattezza e unità nell'azione dal giorno dopo bene io credo che abbiamo completato il tempo a nostra disposizione voglio ringraziare l'autore del libro De Gonfredo Bettini ringraziare Miguel Gotor assessore alla cultura del comune di Roma e storico naturalmente dell'università di Roma e ringraziare anche i colleghi e gli amici del fatto quotidiano che sul loro sito hanno ospitato questa nostra questa nostra conversazione grazie